Salve ragazzi, in questo video vedremo le potenzialità delle tonality masks applicate al ritratto. Ecco, in verità vedremo solo alcuni concetti base ma comunque indispensabili per poter affrontare eventualmente l'argomento con delle sessioni diciamo più mirate e quindi specialistiche. Quindi direi che come prima cosa possiamo portarci direttamente sul nostro esempio di ritratto ed andare a valutare quali potrebbero essere gli interventi diciamo da voler o poter fare. Ecco, in una condizione come questa è molto probabile che l'intervento più interessante da fare è quello di poter agire in maniera selettiva sull'incarnato dei nostri soggetti. Ecco, proprio perché voglio utilizzare delle tonality masks piuttosto che delle luminosity masks iniziamo a fare delle prove, quindi utilizzando prima delle luminosity per vedere se effettivamente già con delle luminosity si riuscirebbe ad avere una buona selezione. Quindi facciamo il primo test cliccando sull'Elight 1, andiamo a visualizzare la maschera e la maschera sostanzialmente ci dice che non è una buona maschera. Perché? Perché abbiamo sì una buona selezione sul viso ma contemporaneamente abbiamo una selezione degli occhi abbiamo una selezione ancora, anche se modesta, sulla zona diciamo di riflessi dei capelli abbiamo una selezione del diciamo vestito, quindi in questo caso della maglietta della ragazza ma in questo caso di entrambi e anche del fondale quindi sicuramente questa non è una maschera valida. annulliamo e andiamo a fare una selezione delle Dark 1 selezionando le Dark 1 ragazzi in realtà non è nient'altro che selezionare le Light 1 quindi quelle che avevamo visto prima e invertirle quindi quello che noi vediamo adesso non è nient'altro che un negativo quindi le problematiche di prima rimangono allo stesso modo semplicemente vengono ribaltate nella visualizzazione della maschera quindi anche qui non ho comunque una buona diciamo esclusione del soggetto. annulliamo e a questo punto l'unica selezione valida che mi potrebbe rimanere è quella dei Mid 3 a questo punto clicco sui Mid 3 e vado anche qui a diciamo visualizzare visualizzo la maschera ma anche qui mi rendo conto che non c'è ancora una buona selezione perché? perché sostanzialmente anche se il viso ha una buona diciamo selezione non è ancora abbastanza isolato da cosa? dal fondale, dalla zona occhi, dalla zona riflesso comunque dei capelli e comunque anche la maglia ancora entra un po' in gioco la maglia è sicuramente migliorata di molto per un motivo molto semplice perché essendo la maglia una zona molto chiara viene esclusa nella zona dei mezzi toni perché i mezzi toni escludono le zone molto chiare e molto scure quindi in questo caso è sicuramente migliorata la parte bassa delle loro maglie ma tutto il resto è rimasto diciamo più o meno invariato quindi annulliamo anche questa selezione andiamo in the select e adesso direi che possiamo provare a vedere cosa accade selezionando delle tonality masks ok quindi andiamo ad abilitare le nostre tonality ecco qui e a questo punto andiamo a vedere quale potrebbe essere la zona che meglio ci isola il nostro incarnato apriamo la nostra palette colori andiamo a prendere il nostro strumento contagocce e andiamo a valutare diciamo nel nostro incarnato quali sono le zone un po' più al limite le zone al limite potrebbero essere questa che è la zona diciamo sul riflesso e abbiamo una luminosità che va da circa 80 fino alle zone diciamo un po' più in ombra che potrebbero essere queste e arriva ad una luminosità di circa 36 come vedete non stiamo valutando più diciamo la componente calda o fredda perché? perché in un incarnato sicuramente la componente sarà calda quindi sicuramente opereremo sulla parte destra del pannello cioè la zona delle warm ok? mentre invece quello che era importante capire è che si andava da una luminosità di 36 fino ad arrivare a una luminosità di circa 80 questo ragazzi ci sta proprio a significare che l'aria interessata è un mezzotono perché? perché andare da 36 quindi una zona esclusa diciamo le parti più scure esclusi neri fino ad arrivare ad un 80 quindi prendere la zona che arriva fino ad arrivare alle luci ma escluso le luci più alte è proprio un mezzotono quindi a questo punto è molto semplice capire qual è la maschera da prendere perché abbiamo detto che sicuramente un incarnato si trova a destra fa parte delle warm è un mezzotono quindi direi di andare decisamente con delle warm medium 3 selezioniamo le nostre warm medium 3 a questo punto il refine mask ci sta indicando che qualcosa è selezionato anche se noi non ancora vediamo questa selezione perché? perché comunque sia solo alcune parti sono state selezionate perché la maschera diciamo ha relativamente un basso contrasto andiamo a visualizzare però questa maschera visualizziamola ad esempio con level e ci rendiamo conto che ora effettivamente la selezione è una selezione valida perché? perché abbiamo una selezione dell'incarnato che ci va ad escludere tutto il fondale ci va ad escludere la zona occhi come anche una buona parte della zona capelli e ci va ad escludere anche l'abbigliamento di queste due donne quindi in questo caso è un'ottima selezione miglioriamo eventualmente un po' la selezione portando i bianchi fino a quando diciamo arriva nella zona quasi clipping e diamo ok adesso abbiamo la nostra selezione se vogliamo rifinita questa selezione è pronta per essere utilizzata come la utilizziamo? semplice andiamo nella parte bassa clicchiamo ad esempio su una curva e abbiamo una curva con associato la nostra maschera per avere un altro livello potremmo scrivere tranquillamente una hue saturation quindi cliccare sulla regolazione hue saturation portarci su questa maschera precedentemente creata associata alla curva premere alt e mentre diciamo si è premuti alt si fa clic con il tasto sinistro e lo si trascina su questa seconda regolazione in questo modo abbiamo quindi due regolazioni di livello una curva e diciamo una saturazione entrambi con la stessa maschera cioè una warm medium 3 a questo punto posso andare ad aprire la mia regolazione di livello posso andare ad esempio ad applicare una curva per il contrasto ovviamente da normale metterò in luminosità in maniera tale che non ho eccessi di saturazione o cambiamenti cromatici e qui mi rendo conto che effettivamente è solo la luce a cambiare solo la luminosità quindi solo il contrasto potrei eventualmente anche aumentare un po' in maniera tale che prima e dopo perfetto adesso andiamo sulla seconda parte quindi andiamo sulla tonalità e saturazione nella tonalità e saturazione ad esempio posso provare ad abbassare un po' la saturazione perché? perché da un punto di vista visivo io reputavo un po' eccessivo quella quantità di colore quindi anche qui posso fare un prima e un dopo perfetto adesso giusto per diciamo chiudere il cerchio proviamo a vedere con questi due semplici livelli che cosa abbiamo fatto quindi andiamo sul primo livello cliccando con alt e click in maniera che mi disabilita tutti gli altri tranne il livello base e vediamo praticamente che è prima dopo prima dopo vedete? in maniera molto semplice con due click abbiamo gestito se vogliamo il colore ed anche la luminosità quindi il contrasto di solo diciamo la parte dell'incarnato di questi due soggetti e non del resto ecco ragazzi questo è un esempio veramente molto molto semplice e veloce non è sicuramente un esempio completo ed esaustivo ma non vi preoccupate perché ci saranno del diciamo dei video che tratteranno in maniera anche fin troppo dettagliata la tematica sullo sviluppo del diciamo della parte di ritrattistica per adesso è tutto grazie ragazzi ci vediamo alla prossima